Ciao a tutti, oggi vi voglio mostrare il mio nuovo video haul dedicato a un sito che io stra adoro che è Crazy Factory in cui si trovano molti accessori tecnologici, molti gioielli ma anche molti piercing di ogni tipo per ogni parte del corpo, io ovviamente mi concentro solo sull'ombelico perchè ho comunque il piercing lì e alle orecchie, insomma poco più, quindi il mio video haul sarà dedicato a questi sette oggettini che ho preso che costano davvero poco ma che fanno comunque un po' la differenza. Iniziamo dalla cover, ho voluto prendere una nuova cover per il cellulare e ho voluto prendere questa con l'unicorno e c'era di due opzioni, opaca e lucida, io ho preso quella opaca, devo dire che è un pochino scivolosa però vabbè e costa 4,90€, mentre il cosino che ho messo sopra che è il salva polvere, quello costa semplicemente 2,70€ quindi hanno dei prezzi veramente molto bassi e quindi magari per cambiare un po' anche look al cellulare in modo non impegnativo si può fare insomma per una volta comprare una cover carina. Poi ho voluto prendere questi orecchini a cerchio a forma di stella che io stra adoro perché sono comunque piccolini come vedete, quindi anche a me che ho i capelli corti stanno bene almeno secondo me e questi li ho pagati, sto cercando sulla fattura, 3,69€ quindi veramente pochissimo però sono comunque un po' diversi dai soliti cerchi. E poi ho voluto prendere l'orecchino finto da mettere al naso forse avrei dovuto prenderne uno un po' più grande però non mi sono capita con le misure comunque questo costa 2,79€ ed è oro rosa. Comunque vabbè è delicato, magari per fare una foto è carino ma il pezzo forte del mio haul è questa collana di pizzo che costa semplicemente 5,29€ ma è fatta davvero benissimo come vedete. Ci sono un sacco di perle nere molto in stile gotico e io la adoro, cioè è bellissima. Anche con un semplice vestitino, con un semplice maglioncino cioè è fantastica e poi devo dire che è fatta veramente molto bene perché il pizzo è molto rigido quindi sta in posa così come la vedete e non si sposta. Io questa la adoro, cioè è bellissima, non vedo l'ora di farci un sacco di foto e poi ho preso due piercing per l'ombelico. Allora questo costa 3,19€ mi ha un pochino delusa per il fatto che comunque i brillantini sopra sono in rilievo mentre io mi aspettavo che fossero magari insomma lisci, invece sono un pochino ruvidi e quindi boh non è che mi faccia impazzire mentre quest'altro mi piace tantissimo, costa 2,09€ e come vedete ha la galassia e le stelline quindi questo mi piace tantissimo, infatti già l'ho messo e questo sì mi piace perché è un po' tridimensionale è carino, sembra quasi tipo di vetro con sotto l'immagine della galassia e niente, il mio video haul finisce qui, quindi è stato un video haul veramente molto veloce però ci tenevo a farvi vedere queste cosine che ho preso perché a me soprattutto la collana piace tantissimo ma mi piace un po' tutto in generale, le cover pure costano poco e ne ho anche altre prese sempre da questo sito e devo dire che non si rovinano assolutamente quindi io vi aspetto al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi se non siete iscritti seguitemi sui social e sotto trovate tutti i link e noi ci vediamo al prossimo, ciao!